Benvenuti a Melito di Porto Salvo, la città che ha il primato delle buche, almeno qualche primato ce l'abbiamo. Togli il cavalletto e fatti il segno della croce. Mettiti al volante e spera di non finire dal gombista. In auto o in sella uno scooter, guidare per le vie di Melito di Porto Salvo senza forare o senza sprofondare in una delle centinaia di voraggini scavate dalla pioggia caduta senza sosta nelle ultime settimane, è diventata una missione quasi impossibile. E questa volta non sono solo le periferie a lamentarsi di buche, piccoli o grandi che siano. Merito sembra una città gruviera. Non passa giorno che non ci arrivino segnalazioni sullo stato di dissesto delle strade cittadine, sui pericoli che soprattutto i motociclisti corrono quando inavvertitamente percorrono le strade del Paese. Può succedere, vanno a finire dentro uno di questi crateri, nella migliore delle ipotesi, danni ai cerchioni, nella peggiore caduta, con conseguenze invece più serie. Per questo pensiamo di fare un'opera utile invitando i cittadini a farsi il segno della croce prima di uscire di casa, insomma come quando si entra in chiesa, oppure mettersi alla guida di un veicolo, prima di entrare nell'autoveicolo farsi il segno della croce se si deve mettere il veicolo in movimento. Una situazione veramente vergognosa. Immaginiamo che nel dopoguerra, quando a merito di Portosalvo non vi era né auto né asfalto, ma si circolava con gli asini e con i carri, sicuramente il Paese aveva meno buche di adesso. E allora ci chiediamo se chi si occupa dell'ufficio tecnico abita in un altro Paese, su Marte o sulla Luna, se i vigili urbani segnalano i pericoli e se li vedono e se i commissari girano per le vie di Melito di Portosalvo. Melito è totalmente abbandonato e lo si capisce dal mortorio che è diventato il viale Garibaldi, mancano solo le lapidi e sembra poi un cimitero. Un tempo lungo luogo d'incontro, questo viale Garibaldi, di una cittadina viva e scalpitante. Insomma, a Melito non c'è volontà di fare, ma solo di distruggere.